Salvini mi ha dato niente, ho detto solo di Salvini, io voglio qualcosa di reddito di scatenanza e basta, però Cassini non mi ha dato niente. E perché gli ha baciato la mano? Spieghiamolo. Ha fatto un gesto d'amore, non è così, è basta, perché non ho visto mai un Presidente così, per me è bravo, siamo disoccupati, migliaia e migliaia, e per me ha fatto una cosa buca, io ho usato pure la Pina Castile perché, lo so, perché il padre è qua e dice, dove è qua, quelli ti fanno mangiare e dai li sto distruggendo in alto. Salvini mi ha dato niente, ho detto solo di Salvini, io voglio qualcosa di reddito di scatenanza e basta, Cassini non mi ha dato niente. E perché gli ha baciato la mano? Spieghiamolo. Ha fatto un gesto d'amore, non è così, è basta, perché non ho visto mai un Presidente così, per me è bravo, stanno facendo le cose buone per i disoccupati. Hai chiesto una mano per il suo quartiere alle Salicelli? Sì, perché siamo tutti disoccupati qui a Napoli, non so, perché è meglio di me, perché a Napoli non si può vivere più così. Lei cosa fa? Io faccio la pulata di due calzini, però non si va, perché la gente non si sa, hanno fatto le feste, e ci ho detto solo questo. A me i calzini mi ha dato niente, niente e niente. Ho fatto un gesto d'amore e basta. Lei voleva Salvini al governo, è stata una sorpresa? No, io l'ho votato, ho votato pure a quella di Cinque Stelle, come si chiama? Di Mario, ho votato pure a lui, perché noi qua andiamo un po' e siamo vivi. Lui ha detto ai Pompigiani, ma che a vendita ci stanno a Pompigiani nel suo paese. Ho saputo pure che siamo disoccupati, migliaia e migliaia. E per me ha fatto una cosa buona, io ho votato pure a Pina Castello, perché lo so, perché sai il padre qua? Dove qua? Quelli che fanno da mangiare? E dai, 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 dai. Senta, lei ha fatto sempre l'ambulante nella vita? Sì, da trent'anni. E' sempre vissuto qua? Avevo lavorato pure in neri, facevo il carpintiere. E ora che venne solo due calzini e basta. E' un bravo governatore, e che Dio lo benedica, e che ci dà qualcosa di soldi per i re di cittadinanza. Quindi quel baciamano di cui tutti stanno parlando? No, niente, niente, mi ha dato niente, niente. No, semplicemente era una forma di... Dio attenzione, attenzione, e basta. Allora"? Allora? 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 Allora?